ci rimettiamo all'aula 1.01 21, è l'invernizio favorevole anche noi perfetto, e per quanto riguarda l'articolo 1 abbiamo finito i pareri cominciamo a questo punto l'esame siamo all'emendamento 0.1.01, Dorina Bianchi c'è il parere contrario di commissione governo favorevole dei relatori di minoranza a questo punto io chiedo anche il parere del governo sui relatori sugli emendamenti il ministro lì da lei? suppongo che sia conforme al relatore di maggioranza perfetto, benissimo io non ho inter... onorevole Bianchi, prego allora è lo 0.1.01, prego ritiro l'emendamento ritirato, benissimo a questo punto passiamo all'emendamento 1.500 della commissione a questo punto noi abbiamo onorevole Lombardi sì, un momento allora, l'emendamento 1.500 lei dichiarazione di voto onorevole Lombardi sì, appunto è quello che stavo dicendo in realtà noi abbiamo un problema perché ne mancano due minuti alla scadenza del termine per i sub quindi o siamo tutti d'accordo diciamo nella cosa oppure lo accantoniamo e cominciamo con quello successivo lo accantoniamo e poi lo riprendiamo successivamente qui a questo punto passiamo all'1.4 Palmieri dove c'è il parere contrario di commissione e governo favorevole dei due relatori di minoranza se non vi sono interventi dichiaro aperta la votazione grazie grazie